Sono Enza De Rita, ho 43 anni, sono una mamma, una moglie e un medico. Oggi dirigente medico presso l'unità operativa complessa di anestesia e di animazione del presidio ospedaliero di Piedimonte Matese. Il mio lavoro è da sempre la mia passione, ma la mia famiglia è per me tutto. Albignano è casa, è il luogo in cui voglio che i miei figli crescano e crescano bene. E' perciò la decisione di mettermi in gioco e di sostenere il candidato a sindaco Angelo Marcucci. E' necessario guardare avanti, progettare con lungimiranza e oculatezza. Credo fermamente che sia necessario mettere al centro la persona, perché solo coinvolgendo il cittadino esso possa anticiparti attiva di un organismo più complesso. Mi piace pensare a quanto sia importante che i singoli comportamenti creino un beneficio per il bene comune. Per amministrare con responsabilità bisogna essere responsabili nelle scelte per la collettività. Ho deciso che il filo conduttore della mia candidatura sarà il prendermi cura, mettendo a disposizione tutte le mie competenze, perché credo che per ben amministrare un comune ci si debba dedicare al cittadino come una mamma si dedica ai propri figli e un medico ai pazienti. Vi chiedo la possibilità di passare dalle parole ai fatti con un vostro voto.